Giallo Il giallo è un colore. La parola ha quattro forme. Giallo maschile singolare Gialla femminile singolare Gialli maschile plurale Gialle femminile plurale Ora diamo un'occhiata ad alcune cose che sono gialle. Il limone giallo La poltrona gialla I girasoli gialli Le banane gialle Il pesce è giallo L'ananas è fresco e giallo Le scarpe sono gialle Il formaggio è giallo Il taxi è giallo Il peperone giallo è molto buono La pasta è gialla La pasta è giallo Il lo spettacolo La pasta è giallo Il freddo L'ananas è giallo Ce lo vedi Grazie a tutti